E' finito in carcere un 37enne che ha coltellato il compagno dell'ex in via Pacinotti, siamo a Catania, ma veniamo ai fatti. Attraverso una telefonata dei sanitari dell'ospedale San Marco, che riferivano di aver prestato cura ad un uomo che presentava ferite da arme da taglio, all'avambraccio, al gomito, all'orecchio, al fianco sinistro, nonché alla spalla destra, giudicate guaribili in 40 giorni, era stato aggredito in via Pacinotti dal compagno dell'ex moglie, un certo Paolo Aloisio. Da qui si sono svolte le indagini e attraverso le immagini del video sorveglianza sono state registrate le fasi anteriori concomitanti e successive all'accoltellamento e rinvenimento dell'arma del delitto, ossia un coltello richiudibile con lama a falce di circa 14,5 centimetri. Nella pomeriggio del 14 marzo scorso, personale della squadra mobile d'iniziativa ha sottomosto, dunque affermo di indiziato, Paolo Aloisio. Dalle indagini è emerso che l'evento delittuoso sarebbe maturato nel contesto familiare, per problematiche concernenti incontri tra la persona offesa e la figlia di soli due anni, nata dall'unione con l'ex compagna attuale convivente dell'autore del delitto. È stato convalidato il provvedimento di fermo e l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.